Pensando un po' a ciò che ha spinto la creazione di questo progetto, pensavo di cominciare da uno sguardo sulla realtà e poi vedere quali sono stati i concetti chiave. Allora, tutti sappiamo che il 2020 è passato alla storia come un anno piuttosto buio, in ogni aspetto sociale, economico, politico. Le donne hanno superato ormai i livelli di istruzione degli uomini, investono di più in cultura, investono di più in formazione, le giovani sono più laureate degli uomini, però a tutto questo non corrisponde un adeguato, per esempio, inserimento nel mercato del lavoro. Le politiche sociali sono una questione strategica per le donne. Non si può perdere l'opportunità di un cambio di passo deciso e risoluto sul ruolo femminile nel mondo del lavoro. E l'impatto che una leadership femminile può determinare in termini di sviluppo umano e sostenibile può essere enorme. Abbiamo bisogno in Italia di avere più figli, di avere più bambini, di recuperare questo gap che c'è tra giovani e anziani, altrimenti, ahimè, il futuro della nostra nazione, ancora prima dell'economia, riguarderà la demografia. Grazie mille, spero che ci rivediamo presto e adesso è il nostro turno di lavorare. Grazie mille, alla prossima!